Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, se stavamo insieme su questo stanno che abbiamo passato con il coronavirus, e un si è permesso di dire che aveva perduto questo stanno proprio per causa del coronavirus. Allora Maria gli ha detto, no, no. Io, quando ho scelto la cordella davanti a me, non mi sono permesso di perdere questo stanno. Ho ottenuto la mascherina e l'ho vivuto in plena. Ecco, io ho ascoltato ciò che dice esterine. che dice alle due vite, non si può. Permettisi non di buttare via la vita, di scartare. Non si può. Noi viene il compito di vivere. C'è molto che non scappi. Buona giornata e buona vita. Grazie. 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 Grazie a tutti.